Nel periodo in cui vincevamo, nel periodo in cui ho preso la squadra in promozione, tanti tifosi erano tanto umili, ma tanto umili. Erano delle persone che io tanti non conoscevano. Oggi sono diventati dei professionisti del calcio, soltanto parlando e offendendo persone a destra e a manca. Capisco l'amarezza della gente che si aspettava ben altro rispetto di una stagione così sofferente. Lo stesso ci aspettavamo noi, ma se un calciatore viene apostrofato pesantemente per una rete sbagliata, creando addirittura apprensioni e patemi alla sua stessa famiglia, c'è qualcosa che non va e che non posso digerire per nessun senso, perché dietro ad ogni individuo c'è una dignità e una famiglia da rispettare. Sempre e comunque, lo voglio ribadire, sempre e comunque, perché se le persone devono venire lì a insultare certe persone, non mi sta bene, stanno a casa, perché facciamo più bella figura. Facciamo molta più bella figura, tanto più bella figura. Ok? Perché questo deve essere l'obiettivo di questa società. Questo deve essere l'obiettivo di questa società. In questi anni alcuni tifosi sono diventati esponenti e opinionisti, perdendo di vista le realtà delle cose. Sanzo Vini dopo che era morto, perché io penso che lui dopo che ha sbagliato quel gol si voleva uccidere, veniva di fronte a voi a essere insultato come un cane? No. Lo dovevamo applaudire, Sanzo Vini. Sì, lo dovevate applaudire. Per me lo dovevate applaudire perché vuol dire che eravamo un pubblico all'altezza. Chiuso! Chiuso! Un pubblico all'altezza. E non parliamo più di questi stupedaggi. Un pubblico all'altezza vuol dire che quello lì, un domani, dovunque andrà, Teramo, è una piazza importante. Non una piazza di gente che è solo capace a parlare e a dire le parole. Punto! Chiuso! Ho voluto fare questa proprio per far capire a tutti che noi in Dio non ci saremo, ma se ci saremo staremo al nostro posto, con la massima umiltà e con un grande spirito di poter rifare una programmazione importante, anche ripartendo da qualsiasi categoria. Il mio posto ci rimango io al mille per mille. Voglio dare continuità anche al progetto, perché la continuità è una cosa tanto importante, a prescindere dalla categoria. Noi vogliamo restare in serie C, non in serie D, in modo in assoluto, perché per noi sarebbe una cosa non bella, che forse in tanti fuggirebbero. Io ci sarò, perché non si abbandona la barca nelle difficoltà.